Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Facciamo un applauso a Patrizia, ora però se lo rifà meglio, vieni qui Patrizia, no vieni qui, è l'ultima volta, hai sentito? Vai Patrizia, sei già su Facebook, sei già cento... Somebody to love... Facciamo un applauso a Patrizia! Grazie, grazie, io ringrazio quello che si chiama come lo scrittore, come si chiama? Enrico Moccia per l'ospitalità, ringrazio Luciano Zanoni.